Buonasera, sempre Terme Battle Center Viterbo, siamo qui con il capitano Davide del team Manganelli-Davide. Allora, che ci dici? Allora, volevo dire, per noi questa è stata finalmente la terza sconfitta stagionale, ci stiamo allenando tanto e speriamo di continuare così. Siete in crescita insomma, dai. Siamo in crescita, siamo in netta crescita, piano piano riusciamo a ritrovare qualche punticino. Purtroppo non c'è il pareggio, se vince o se perde. Ma come c'è il pareggio? Io non l'ho segnato perché sapevo che c'era il pareggio, e no, mi devo dire le zone, scusate. Va bene, faremo protesta in direzione. Ti ringrazio, comunque a dire, veramente tanto. Va bene, l'importante è quello. Allora, inizierò anche, magari un tanto a vincere, inizieremo, adesso me lo fai non c'è perché ha avuto un problema alla prostata e si è ritratta. Lo saluto. Va benissimo, perfetto, dai. Ti ringrazio, grazie l'intervista, buona sera. Buona sera. Ciao.